La Kermesse si chiude qui, l'appuntamento per le ragazze per il 13 agosto all'Hotel Costa Verde di Cefalù incrociamo le dita e con un grosso applauso facciamo loro un grande imbocco al lupo grazie a tutti, io sono Mario Caminita, sono stato onorato di essere stato accolto in questa maniera da tutti voi di Villa Frati, spero di esserci la prossima volta, grazie e buonanotte